Sul fronte IMR Industriale Sud di San Nicolò, dopo lo sciopero e il picchetto di giovedì scorso, si è svolto presso Confindustria Teramo a Sant'Atto l'incontro voluto dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, organizzato alla presenza dell'azienda Sindacati e RSU. L'obiettivo è stato quello di fare il punto sulle strategie future che l'industria ha intenzione di mettere in atto. La preoccupazione paventata da sindacati e lavoratori, ricordiamo, sono oltre 530 e di cui 140 interinali, è quella che possa esservi una delocalizzazione della produzione verso gli stabilimenti di Iesi e Rieti e una contestuale riduzione della produzione che porterebbe inevitabilmente ad una riorganizzazione interna del lavoro, a discapito in primis dei dipendenti cosiddetti somministrati che con contratti settimanali lavorano per l'azienda. Ho voluto fortemente questo tavolo in presenza per sentire quali sono le determinazioni dell'azienda, ma mi è sembrato un tavolo positivo in cui sono emerse comunicazioni importanti da parte dell'azienda. Innanzitutto Industriale Sud non si toccherà, rimane a Sant'Atto, quindi questo è un dato importante per l'intero territorio perché c'è un dato occupazionale importante. Ma l'azienda ha parlato di nuove commesse, tra l'altro ha parlato di Mercedes, quindi sicuramente una ditta automobilistica molto importante per cercare di mantenere tutti i livelli occupazionali. Oggi poi si è parlato del piano industriale che sarà ratificato per iscritto nei prossimi giorni e il tavolo subito dopo Natale sarà riconvocato per confrontarci su questo piano industriale. Però al momento sono molto ottimista rispetto a quello che ha detto l'azienda perché continuerà a investire sul sito di Sant'Atto. Quindi sono salvi gli interinali perché la preoccupazione era anche questa? Allora, al momento sono salvi, però vogliamo capire dal piano industriale come verranno trattati e quindi continueremo a monitorare. Dunque la società di Carate Brianza, che si occupa dello stampaggio e del montaggio dei prodotti in plastica nel settore dell'automotive, ha quindi annunciato che non ci saranno tagli alla produzione. Promessa questa su cui i sindacati hanno avvertito che continueranno a tenere alta l'attenzione. Speriamo che quello che ci hanno detto a voce adesso ci venga consegnato anche con documenti per iscritto poi li analizzeremo, quindi il tavolo istituzionale comunque resterà in piedi il prossimo appuntamento sarà sicuramente prima della fine di gennaio esamineremo la documentazione e soprattutto ci interessa ovviamente che i livelli occupazionali tutti siano confermati e ci interessa anche il cronoprogramma cioè le scadenze e le entrate di queste nuove produzioni entro quanto le linee saranno attive e questo è quello che ci interessa.